Allora sono qua con Google Classroom, devo caricare un file, il file l'ho già messo sul mio drive Allora cos'è che faccio? Potrei andare anche qui, ma posso andare anche semplicemente carica file o aggiungere il link se conosco già il link, però facciamo che andiamo qua con carica file da mio drive, dunque vado a carica file, qui io devo andare sul mio drive, a questo punto devo andare a mettere il nome so che l'ho chiamato Padoan, ok, faccio invio, a questo punto ho tutto quello che si chiama Padoan e dunque cosa faccio? Vado a inserire il file che mi interessa, perché è il Padoan 2 e dunque vado a inserirlo cliccando due volte e poi andrò qui a pubblicare Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci